Vorrei che ci lasciassimo senza due parole di Arianna Meloni. Grazie, grazie davvero a tutti. Devo dire che mi avete commosso. È stata una grande emozione ieri quando sono arrivata e vedere quella calorosa accoglienza. E ancora oggi vedervi tutte qua, che avete raggiunto dai vostri comuni, dai vostri paesi, alcuni lontanissimi, Riccione, che sicuramente è un posto bellissimo, ma devo dire che non gode di una particolare facilità ad essere raggiunto. Voglio ringraziare ovviamente il nostro ministro Eugenia Roccella che sta facendo un lavoro straordinario sulla famiglia e sulle varie opportunità. Ringrazio Pierluigi Biondi per aver organizzato questa due giorni perché credo che la politica sia davvero questo, sia il momento di confrontarsi e di produrre politica. perché è quello che noi siamo abituati a fare da sempre e è quello che facciamo ogni giorno. Perché vedete, quando raccontano che dietro Giorgia Meloni non c'è nessuno, beh, raccontano una storia che non è vera. Dietro Giorgia Meloni ci sono centinaia di uomini e di donne che hanno scelto di fare politica non per qualche interesse personale ma solo per l'interesse generale perché vogliono davvero cambiare le cose. Hanno scelto di iniziare un percorso di militanza, hanno scelto di iniziare questo percorso e qui abbiamo militanti, quadri, dirigenti ma soprattutto abbiamo i nostri amministratrici, consiglieri comunali, assessori, sindaci e i nostri anche presidenti di circolo perché il nostro rapporto è un rapporto con le persone. Noi siamo radicati sul territorio, il nostro partito che è un partito che ha iniziato il suo percorso tantissimi anni fa quando a un certo punto si è sentito perso, ha ripreso quell'identità, l'ha portata in una nuova casa e a 40 giorni dal voto ha costruito Fratelli d'Italia. Beh, è un partito che sta tra la gente per la gente e ogni giorno produce proposte e questi momenti sono uno di quei momenti perché è giusto che ci confrontiamo e che diamo le nostre idee, i nostri contributi che i nostri rappresentanti al governo dopo portano avanti perché la politica nasce dal basso, nasce dalla militanza, nasce dalla gente che crede davvero. Allora, io oggi sono qua e voglio insomma portare una testimonianza. Voi sapete che abbiamo iniziato a fare politica qualche decina di anni fa. È stato un percorso lungo e spesso anche non facile, abbiamo detto, abbiamo fondato un partito a 40 giorni dal voto la notte prima dell'apertura delle urne, anzi appena prima di aprire le urne gli exit poll ci davano tra lo zero e l'uno. Oggi governiamo l'Italia. Posso dire con orgoglio che il nostro percorso è un percorso dove non abbiamo mai ceduto, dove non ci siamo mai arrese, dove non ci siamo mai guardate indietro. E devo dire che in questo lungo cammino abbiamo incontrato, perché poi qui siamo tra donne, quindi vogliamo anche raccontare, raccontare effettivamente questi sguardi che a volte quando sei donna hai, questi sguardi di chi pensa che non ce la farai, gli sguardi di chi pensa sempre che non sei adeguato, gli sguardi di chi pensa che non sarai all'altezza, gli sguardi di chi in maniera a volte anche viscida pensa se sta lì chissà cosa avrà fatto solo perché uno è donna. Banalmente ha studiato, ha lavorato, si è impegnata. e forse è questo il rompere finalmente il tetto di cristallo, perché è l'orgoglio del merito, è l'orgoglio del lavoro, è l'orgoglio di non cercare scorciatoie. E questa grande comunità che si è radicata, che prima era una piccola comunità e che oggi sta diventando una grande comunità di uomini e donne, siccome è una storia troppo bella per essere raccontata, lo sapete come la chiama la sinistra? L'amichettismo. È diventato improvvisamente l'amichettismo, la comunità è amichettismo e non sia mai che in questa comunità ci sia un tuo parente che condivide quegli stessi ideali e quegli stessi valori perché a quel punto diventa il familismo. Fino a prima del 2022, quando Giorgia Meloni è diventata presidente del Consiglio, non si è mai sentito parlare né di amichettismo né di familismo, eppure sono pieni. E allora sì, l'orgoglio di avere la prima donna presidente del Consiglio e non solo la prima donna presidente del Consiglio, anche abbiamo una serie di donne oggi che rivestono dei ruoli molto importanti, per questo possiamo dire davvero che abbiamo invertito la rotta, abbiamo la prima presidente della Corte di Cassazione, abbiamo il primo ragioniere di Stato, abbiamo molte donne che guidano importanti partecipate, abbiamo una realtà femminile importante e sapete perché? Perché essere donna a volte ha i suoi pro e ha i suoi contro, perché quando ti guardano così, cioè quella arroganza, quella presunzione di sapere, di pensare che tu non sia adeguata, a volte il contro può essere che certe volte quasi ci convincono, no? Certe volte sono le 11 e 15 tendiamo anche noi a andare nelle retrovie, a chiuderci, a chiuderci quasi in un recinto, quasi come se fosse una competizione tra donne, alcune volte la politica non è stata nemmeno d'aiuto, no? La commissione delle lette, ci ricordiamo? La commissione delle lette come per dire voi parlate di cose delle quali tanto non faremo mai nulla, noi parliamo delle cose serie. Però poi se uno capisce che non deve competere tra donne, deve competere con il più bravo, perché noi abbiamo quella giusta umiltà di capire che si compete con il merito, con le capacità, beh allora ci riscopriamo a fare cose eccezionali, perché noi siamo in grado di fare davvero cose eccezionali. Ce lo possiamo dire, abbiamo dei superpoteri, noi siamo coraggio, noi siamo forza, noi siamo tensione, siamo concentrazione, noi siamo quella tensione, anche il nostro sistema nervoso, noi siamo quelle persone che sanno aspettare, che reggono la tensione più di qualunque altro uomo e siamo anche persone che hanno un'enorme tenuta fisica e poi lo abbiamo detto, le notate, no? Esatto, anche la febbre, la banale febbre, quando abbiamo 38, noi con la tachipirina al lavoro, no? Qualcun altro con 37 sta già a casa. Ti sto facendo prendere la mano. Scherzo, ovviamente, esclusi presenti. e siamo quelle persone che sanno fare mille cose nello stesso momento e ricordiamo mille cose nello stesso momento. Io parlo qui e penso che mia figlia mi potrebbe chiamare, il mio telefono è girato al contrario, pronta per rispondere. Facciamo mille cose nello stesso momento. e allora quando penso che la politica è visione, ok? E la visione è il punto d'incontro del bene comune. Allora, se la visione è il punto d'incontro del bene comune, la politica è donna, quindi siamo nel posto giusto, perché nessuno più di noi può avere le giuste intuizioni. seguiamo le nostre idee, seguiamo le nostre intuizioni, perché ci riscopriremo a fare cose eccezionali. Io vi racconto un aneddoto, è una cosa un po' personale, un po' di tempo fa, parecchio tempo fa, parlando con mia sorella le ho detto ma come fai? Ma come fai? Io ho l'ansia solo a guardarti. e lei mi ha risposto Arianna anch'io ho l'ansia, la combatto, impatto contro l'ansia e vado avanti. Allora io credo che il segreto sia tutto qui ed è questa un po' la testimonianza che avevo piacere di portarvi. Oggi il governo sta facendo grandi cose, è un governo coeso, è un governo di visione, è un governo che ha un suo progetto politico e che sta portando avanti punto per punto i suoi punti del programma. Non sbarella, non inventa, non improvvisa, non regala soldi, non regala mancette elettorali per guadagnarsi qualche poltrona, va avanti dritto secondo quello che ha raccontato agli elettori. e vedete è ripartita l'economia è ripartita l'economia e è ripartita l'occupazione ed è ripartita proprio l'occupazione femminile ed è ripartita l'occupazione femminile a tempo indeterminato. Beh, c'è ancora tanto da fare, sì, c'è ancora tanto da fare, siamo ancora molto indietro e se le donne lavorassero di più perché purtroppo ancora noi abbiamo tanti dati sui quali il governo si sta impegnando e sui quali dobbiamo lavorare i dati sulla natalità perché per andare avanti spesso sulle legittime aspirazioni le donne rinunciano a fare i figli la paura l'insicurezza anche si rinuncia spesso a fare i figli e questo è un problema sul quale il governo si sta interrogando e sta portando anche in Europa perché è un tema serio perché tra poco saremo una nazione di vecchi saremo un'Europa di persone anziane e poi c'è tragicamente anche il tema di quelle donne che hanno magari studiato che hanno anche studiato materie complesse con dei master che hanno approfondito e che poi siccome hanno un figlio o due figli rinunciano a lavorare e lasciano il lavoro bene su queste cose il governo sta facendo un lavoro davvero eccezionale lo abbiamo dimostrato già con la prima finanziaria e stiamo andando avanti anche con la prossima la decontribuzione previdenziale per le mamme lavoratrici l'assegno unico per le famiglie il bonus per i nidi ci saranno famiglie con più di due figli che praticamente non pagheranno l'asilo nido e il finanziamento per i centri estivi i contributi per le scuole per aprire anche l'estate il diritto di libertà per le donne vittime di violenza insomma le iniziative che sta mettendo in piedi il governo sono davvero tante e io credo che noi dobbiamo raccontare questa storia dobbiamo raccontare ogni giorno la storia dell'impegno e la storia del merito ed è quello che dobbiamo anche trasmettere ai nostri figli perché vedete io quando guardo anche questa cosa dell'attacco personale ecco una cosa che voglio e che sto facendo è dire alle mie figlie vedi quando vedi queste cose qua non è così che si va avanti quella è una scorciatoia non si attacca sul personale una persona si attacca sui contenuti su quello che ha fatto ed è questa la cultura che noi dobbiamo trasmettere anche alle future generazioni basta con la cultura del piagnisteo noi siamo per la cultura del merito noi siamo per la cultura del lavoro noi siamo la cultura dell'orgoglio di sentirci donne e siamo soprattutto l'orgoglio di sentirci donne italiane io vi auguro davvero un buon lavoro viva Riccione viva fratelli d'Italia buon lavoro a tutti purtroppo vi devo salutare grazie per questo invito ci vediamo alla prossima grazie grazie grazie